Ciao a tutti, finalmente mi è tornata la connessione internet, si ieri qua veniva proprio tanta di quell'acqua che sembrava che la buttavano giù coi secchi praticamente. Allora, la famosa bottiglia della strega, che me l'hanno chiesta più di una volta, oggi finalmente sono riuscito a ricampare, a prendere, a trovare tutto quello che mi serviva e ne parliamo. Ok, allora, la bottiglia della strega a cosa serve? Serve proprio una delle protezioni più forti che ci sono, a parte il mantello della masca, ecco, il mantello, il telo, il fularro, ognuno lo chiama come vuole, comunque. A parte quello, questa è anche bella potente. Come si procede? Cioè, come si procede? In cosa consiste? Una volta erano delle brocche, proprio di terracotta ceramica, ma erano, era una terracotta, una ceramica, adesso non vorrei dire cavolate, comunque, resa lucida durante la cottura, che anche il lucido va a prendere a riflettere. E di solito avevano disegnate sopra questo uomo barbuto, erano molto molto ghirigorate, Poi, con gli anzi, la prima, si parla che l'hanno ritrovata, cioè, risale, il primo ritrovamento, è una brocca del mille, cioè del mille, del diciassettesimo secolo, mi pare. Sapete dove lo scrivermi? Non me lo sono scritto questo. Però questa brocca pare essere addirittura del quindicesimo secolo. Dove venivano messe? Venivano messe, proprio, prima di costruire una casa, al centro, diciamo, nelle fondamenta, proprio, sotto la casa, quindi più sicuro di lì, non si scappa. Altri posti dove venivano messe, per dire, la casa c'aveva già costruita, l'ereditata, dove la mettevano? La mettevano in un angolo nascosto dalla proprietà, di solito sottoterra. Oggi come oggi, se vogliamo un posto magari sicuro, sicuro, può essere anche un vaso sul balcone, è nella nostra proprietà ed è sottoterra. Non è... Oddio, non siamo tutti proprietari terrieri, giustamente. Cioè, giustamente, peccato. Allora, con poi il passare del tempo, si è iniziato a usare il vetro. Quindi, se avete delle bottiglie, delle anforette, diciamo, di terracotta o porcellana, vanno benissimo. Se no, vanno benissimo anche di vetro. O, adesso io ho solo questa scatola qua, che è tutta disegnata, se no, queste scatole di metallo sono belle resistenti sottoterra, nonostante tutto. Il vetro sicuro è la migliore, perché il metallo si deteriora prima del vetro. Come anche lì, se usate queste, con il tappo di sughero, metteteci sopra proprio tanta, tanta, tanta cera. Allora, l'ideale sarebbe la cera lacca. Però, in mancanza di cera lacca, va bene, anche la cera normale, ecco lì che non me ne sono preparato un pezzo. Appettate un po'. Fiammiferi, vabbè, faremo finta, ok. Allora, eccoli qua. Vedete che mi accendo già la candela. Se tutte le volte, è quella che mi dimentico sempre da accendere. Allora. Qui. E abbiamo detto, si fa ai fini di protezione. Quindi, come regola, si va a fare in una crescente, oppure la notte della luna piena. Voi direte, ma la notte della luna piena è mezza e mezza. Un poco prima che arriva la luna piena. Quindi, c'è il tempo che uno ha giustamente di mettere tutto insieme. Gli oggetti, come regola, vanno tutti quanti. Non so, il rosmarino va incantato, il chiodo, gli spilli. Vabbè, le cose nostre, i capelli, le unghie. No. Il vino va incantato. Il filo va incantato. Se usate della corda va incantato. Tutto quello che usate andrà incantato. Come sempre, andrà caricato, consacrato e incantato. Allora. La base, appunto, mi hanno detto, pezzi di noi o liquidi. Allora, io ora ho messo della camomilla perché farvi vedere della mia pipì non mi sembrava più il caso. Quindi è camomilla. Niente di strano. Non usate la camomilla. Voi userete dell'urina, eh. Sappiatelo. Adesso lo dico. Qua nel video non mi sembrava il caso di avere della pipì nel bicchiere. Allora. Adesso io lo farò con un boccettino grande perché è più visibile. Poi potete usare anche un barattolo così. Una volta mettevano anche dentro, proprio, non so, un pezzo della maglia dove c'è stato del sudore. Un pezzo delle scarpe. Anche proprio a proteggere il cammino della persona. Quindi, dentro, proprio sbizzarritevi. ci potete mettere quasi tu con cognizione, eh. Cioè, quello che comunque volete. Allora. E vediamo un po' fino a qua se più o meno ho detto tutto. Ah, sì. Una volta, vabbè, ci mettevano anche, non so, le monete, protezione nel campo finanziario. Poi ci sono. Bottiglie della strega, appunto, per ogni cosa. Abbiamo già visto, esempio, quella per trovare l'anima gemella. Anche quella lì fa già parte dei boccettini. che possono essere boccettini, barattoli, come oggi. Cioè, proprio, l'ideale è anche lì. Vabbè, che una volta sottoterra non è un problema. Però, se mentre lo fate, gli mettete anche un telo nero sopra, che poi andrete a sotterrarla col telo nero, va benissimo, eh. Allora, internamente cosa si iniziava? Mettendo. Vabbè, abbiamo già incantato tu. Ah, un'altra cosa utile da mettere. Un pezzo di carbone di casa vostra. L'ideale di casa vostra. Se non ce l'avete, non ce lo state a mettere. Se avete fatto una grigliata in giardino, va benissimo. Un pezzo anche di quel carbone lì. E quello lì è proprio a proteggere il focolare. Quindi, non solo la persona di cui si mettono dentro i capelli, le unghie, l'urine, eccetera, eccetera. Ma l'urina ha una forte valenza. Eh, magia. Quindi, vedete, che schifo. Eh, pure così. E poi un giorno magari parliamo anche di quella. Si viene usata proprio... È di largo consumo. Adesso io farò fuori tanta camomilla col tempo per spiegarvi tutto. Allora, si prende il barattolino. Ad esempio, qua io adesso ho delle unghie. Quindi, ci si mettono dentro le unghie. dei capelli. Più sono ingrovigliati, annodati, meglio è. Perché i nodi sono proprio qualcosa che vanno a bloccare. Quindi, evitano che vi arrivi qualcosa addosso. Quindi, è di protezione. Va benissimo. Più sono ingrovigliati, meglio è. Adesso, mi dirà, ma io ce l'ho lisci. E metti li lisci. Non vi preoccupate. Si mettono quelli. Si vanno a mettere gli spilli. Di solito se ne mettono sette. O con la testa nera. O con la testa rossa. O spilli... Spilli. Quelli che non hanno la testa. Cioè, nel senso che hanno tutti di metallo. Quindi, anche lì. Che tu mi porti protezione. 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 I chiodi. Adesso io non sono stato a mettere i numeri. L'ideale sono sempre i numeri dispari. Quindi, potete... Il chiodo stesso discorso. Lo sapete. Più è vecchio. Più è rugginito. Meglio è. Se l'avete passato anche sui quattro... Vabbè, sì. Dovete aver consacrato tutto. Quindi, per forza di cose. L'avete passato sui quattro elementi. Chiodo dentro. Anzi. Con la punta verso... Non è facile. Con la punta verso l'esterno. Il chiodi piegati. Il pezzo di carbone. Poi vi dico. Quello che vi ispira a voi per protezione. Del... Un filo rosso. Va bene anche... Allora. L'ideale sarebbero tutti e due. Comunque. Filo rosso. Anche lì. Famosi sette nodi. Quindi. Che tu mi porti protezione. Se ce la faccio io... Metti gli occhiali. Tu mi porti protezione. Tu mi porti protezione. Che tu mi porti protezione. Bla 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 bla. E anche lui dentro. Se avete della corda... La corda è proprio quella naturale. Naturalmente. Non di plastica. Quelle corde di canapa. Non lo so. Comunque la corda di corda. Non mi viene in mente adesso di cosa è fatta. Anche quella lì. Sette nodi. E infilate dentro. Va benissimo. Del rosmarino. Che abbiamo già incantato. E tutto quanto prima. Dopodiché. Ci mettete. L'urina. Vostra. E sopra. Del vino rosso. Buono. Possibilmente vino di cascina. Cioè. Non vino. Quello a metà nolo. Nel senso. Una volta che avete messo tutto. Chiudete. Oppure. Chiudete. Oppure chiudete. Quello che è. Prendete la candela. E andate a sigillare tutto. L'ideale è una candela. Adesso io l'ho accesa bianca. La prima che avevo. L'ideale. Una candela rossa. O anche una candela nera. In questo caso va bene. E andate a sigillare il più possibile. Se usate. Come vi ho detto prima. Del sughero. Metteteci della cera lacca. Andate a trovarla. Sinceramente non so dove si possa trovare. Credo da ferramenta. Comunque. Perché la cera lacca va proprio a. A chiudere proprio sigillatissimo. E. Le intemperie. Diciamo. Non vanno a influire su. Sul far degradare. L'ideale sarebbe anche sul metallo. Perché il metallo abbiamo visto che dura meno del. Del vetro. E. Una volta che vabbè. I liquidi li avete messi dentro. La andate a sotterrare. Chi ha la terra. Di proprietà. Nella terra di proprietà. Non mettetela in. Ah ma c'è un campo di dietro casa. Che poi magari tra sei mesi. Un anno ci vanno a costruire. E. Addio bozzia. Al massimo la rifate. Quindi anche lì. Se la fate per dire col tappo così di sughero. Magari rifatela una volta l'anno. Ogni volta. Ogni due anni. Così siete sicuri di essere maggiormente protetti. E. Qui va a proteggere dalle cose negative. Quindi se uno vi manda delle benedizioni. Vi arrivano altre cose. Diamo una sbirciatina. Sì la sua durata appunto. Ho detto è illimitata. L'importante è che non venga aperta. Come anche i sacchettini. Vabbè non durata. Però tutti i barattolini. Una volta aperti. Come anche il barattolino col miele. Una volta aperto. Puff. Finisce l'incanto. Quindi finché rimane chiusa. E. Non rotta. Dura. Una volta che finiamo tutto. Giustamente. Queste me le leggo per dire le parole. Allora. Quindi abbiamo detto. Va. A proteggere. Da ogni sorta. Di maleficio. Che vi verrà. Che vi può avvenire fatto. Allora. Se io per dire. So che sono sotto l'effetto di una fattura. La faccio. La fattura. Non va via. Sono protetta da questo momento. In avanti. Allora. Una volta che avete chiuso tutto. Che avete saldato tutto quanto. Quindi avete messo. Che tu mi porti. Ogni oggetto. Che tu mi porti protezione. O che non so le unghie. Anche lì. Che tu rappresenti. Me. Cioè. Lì appunto. Ogni oggetto. Andate a dire. Quello che giustamente. Deve rappresentare. Dopodiché. Andrete a dire. Venga. Imponendo le vostre mani. Venga. Impalato negli aghi. E nei chiodi. Venga affogato nel vino. Venga affogato nel vino. E allontanato con i poteri del rosmarino. Quindi. Ogni sorta di maleficio. Venga. Impalato negli aghi. E nei chiodi. Negli aghi. Sarebbero negli spili. Ogni sorta di maleficio. Venga impalato negli aghi. E nei chiodi. Venga affogato nel vino. E allontanato. Con la potenza del rosmarino. Ripetetela più volte. E anche lì. Visualizzate questa schermatura. Che vi arriva addosso. Che poi sarà lei. Perché presente. I malefici arriveranno qui. E rimbalzano. Come regola a voi. Non arriva più nulla. Ok. Se poi vi arriva qualcosa. Andate a controllare. Tipo chi non so. Se tornerà nel vaso. Può anche andare a dire. Ma fammi un po' vedere. È tutto a posto. Come regola è tutto a posto. Se il vaso è lì sotto i vostri occhi. Cioè. Nascosto. Celato. Però non è detto. Magari. Che ne so. Se è bucato il sughero. Ok. Direi che sulla bottiglia della strega. Quella proprio. La bottiglia classica. Della strega. Quella che qui diciamo è l'originale. Poi appunto ci sono tutte le altre varianti. Ok. I barattolini. I bottigini. Della strega. Si sa. Sono. Per ogni sorta di cosa. Ok. Vi saluto. Come sempre. Baccio a tutti. Ciao.